Buongiorno, buon venerdì, a View from Italy, the Watcher Post dagli studios di Utopia. È un gran piacere avere in collegamento l'onorevole Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia e del PPE, che è già in collegamento. Buongiorno, onorevole, come sta? Buongiorno, molto bene, molto bene. Periodo intenso, pieno di stimoli, con tanti rischi da correre. Quando c'è la possibilità di rischiare, si può sbagliare, però non si innova se non si è pronti a sbagliare. Allora, la sorprenderò con una scaletta di intervista, come facevano i vecchi segretari comunisti nelle loro relazioni congressuali. Mondo, Europa, Italia, partito. Partiamo dal mondo. Agosto è stato un mese orribile. Lei segue le questioni anche di politica internazionale, le questioni geopolitiche e militari. Ferragosto è stato il giorno della orribile bandiera talebana sul palazzo presidenziale di Kabul. Il 26 agosto, l'orribile attentato che tutti conosciamo, nel quadro di un ritiro delle truppe americane e occidentali, che era certamente previsto, che era richiesto, diciamolo, dai cittadini americani, sia democratici che repubblicani, però le modalità con cui questo è avvenuto sono state catastrofiche. Lei, un mese dopo, che idea si è fatto? E aggiornamento, purtroppo? È stata una vicenda che ha tutte le caratteristiche per segnalare, al mio modo di vedere, l'inizio di una, diciamo, la messa in evidenza di una crisi che in realtà è già iniziata, ed è iniziata non nel precedente mandato presidenziale con il presidente Trump, ma con Obama nel 2013 a Vilnius, al vertice nato di Vilnius, Obama per la prima volta propone di andarsene dall'Afghanistan. In quel caso sono proprio l'Italia e la Gran Bretagna ad impedire che si decida una dipartita così precipitosa, determinata da ragioni che, mi permetto di definire, molto legate alla postura, io ritengo decisamente populista del presidente Obama, il presidente che tra tutti i presidenti americani più ha mostrato di essere schiavo del consenso e quindi ossessionato dal problema di non disturbare gli elettori nelle proprie decisioni. E non c'è nulla di più disturbante, legittimamente per certi versi, per la popolazione e per gli elettori che una guerra a centinaia di migliaia di chilometri. è che la politica comporta anche questo, si fanno anche le guerre per difendere la pace. E quel che è accaduto è accaduto secondo una formula che è totalmente inaccettabile. Noi nel 2001 siamo entrati in Afghanistan tutti insieme in funzione di una chiamata, un appello degli Stati Uniti in base all'articolo 5 del trattato nato, essendo stati in base in patria, hanno chiesto di essere aiutati. E ce ne siamo andati sulla base di una decisione poco più che unilaterale degli Stati Uniti. Non si fa così, mi verrebbe da dire secondo una modalità, un linguaggio che non è politico. Non si decide insieme di iniziare un'avventura purtroppo drammatica a sfondo bellico e unilateralmente si decide che si va via. Tra l'altro con un accordo, quello di Doha, che ha una quantità di coni d'ombra anche proprio giuridici insanabili. Insomma è successo tutto quello che non doveva succedere. Ed è successo perché la politica, se posso fare una battuta, la politica è sempre meno disposta ad occuparsi di potere, di potere vero, perché il potere ti costringe a volte a scontentare gli elettori. Esercitare la responsabilità del potere comporta questo rischio. Domanda, al di là delle parole pronunciate dall'uno o dall'altro leader, e le parole di Joe Biden purtroppo non sono state convincenti, sono stati gli stessi generali auditi al Parlamento americano a smentire la sua versione delle cose, ma al di là delle parole, Lei ha una percezione di weakness, di debolezza, che rischiamo di dare purtroppo ai nemici del mondo libero? Ho una percezione fortissima di debolezza, ed è una debolezza che riguarda il punto più forte che tradizionalmente rappresentava la struttura, la dorsale dell'Occidente cosiddetto, e cioè la debolezza sta nella relazione tra gli Stati Uniti e l'Europa. Gli Stati Uniti hanno trattato in questo caso l'Europa, e l'Europa si è fatta trattare come l'ancella, l'ancella dei processi geopolitici che costituiscono il substrato, non solo di quel che accade in Afghanistan, ma su tutto lo scacchiere medio orientale, e soprattutto è diventata l'ancella della principale questione aperta geopolitica per gli Stati Uniti, che non è più il rapporto con la Russia, ma l'antagonismo nei confronti della Cina. L'Europa deve recuperare un proprio posizionamento proprio su quel tema, e quel che è accaduto anche recentemente tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia dal punto di vista della condivisione della politica della difesa è un ulteriore allarme che ci deve mettere in grande, grande, grande allerta. Domanda. Non è questa l'occasione? Magari dedicheremo una conversazione specifica su tutti i temi della difesa europea, coloro che sono molto favorevoli, quelli che sono molto contrari, chi pone... Le pongo una sola questione per chiudere questa parte della nostra chiacchierata. Come si fa però a evitare che le pur legittime mosse dell'Europa per irrobustire la sua difesa comune ci disallineino rispetto agli alleati occidentali? Cioè come si fa ad evitare il rischio che qualche volta qualche capitale europea rischia di promuovere, di promuovere un posizionamento terzo dell'Europa tra Nato e potenze asiatiche? È pressoché impossibile, credo di dover rispondere così. O siamo nella Nato e o siamo nella Nato e io suggerirei di rimanerci ancorati fortemente e questo però comporta una conseguenza politica e lo dico anche un po' lateralizzandomi rispetto al messaggio che anche il Partito Popolare sta dando, cioè quello di favorire fortemente la nascita di un esercito europeo. O stiamo nella Nato e quindi in certa misura rinunciamo al sogno di un vero e proprio esercito europeo, quindi ci accontentiamo di far collaborare le forze armate dei 27 Paesi membri, ma l'esercito in realtà sono gli Stati Uniti. è questo il tema perché parliamoci chiaro, noi abbiamo spaziato un po' di miliardi di euro nel bilancio plurianero europeo per finanziare la difesa europea, ma sono peanuts, è il finanziamento di un tentativo di coordinamento delle forze armate, sono 20 eserciti che non possono scendere in campo, io quando dico la guerra non è l'Erasmus, scendere in campo significa andare a morire, non li vedo i soldati spagnoli che vanno a morire per i lituani, ma non lo dico perché voglio essere cinico, lo dico perché è molto difficile costruire una cosa di tutto tipo, allora coordiniamo quello che c'è ma rimaniamo ancorati fortemente a ciò che ci ha reso liberi e continua a mantenerci liberi, che non è con tutta la sua bravura Ursula von der Leyen, ma è l'appartenenza alla solida, forza della Nato. È davvero confortante sentire un posizionamento così netto e così chiaro e se posso aggiungo anche l'auspicio che uscendo per un momento dalla discussione europea l'Italia come tale butti un occhio rispetto all'allargamento dell'operazione Five Eyes e magari cerchiamo anche noi diciamo di stare nella famiglia atlantista in senso strict. Ora vuole, invece torniamo in questo caso a Bruxelles, altro tema delicato. Questa è stata la settimana in cui in Italia si è discusso troppo tardi e troppo poco a mio avviso dei rischi di rincaro delle bollette, sappiamo le misure prese dal governo, opportune, ma si tratta comunque di un cerotto ancora piccolo. L'estate appena passata Bruxelles, forse un po' frettolosamente mi permetto di dire, ma ho letto anche sue prese di posizione in questo senso, ha promosso un pacchetto di 13 misure normative che poi dovrebbero essere recepite stato per stato, anche capitali, penso a Parigi, solitamente, diciamo, fortemente euroliri che stavolta hanno detto, ricordando anche come nacque la protesta dei gile gialli, attenzione, ecco, le domando, come si fa ad evitare che quel pacchetto, diciamo, gretino, si trasformi in una bordata terrificante contro il ceto medio, contro i proprietari di automobili, contro i proprietari di appartamenti da riscaldare e così via. Allora, dal punto di vista della stretta strategia politica e quindi anche strategia bellica politica, bisogna mandare via il vicepresidente della Commissione Europea, Timmerman, perché le politiche viaggiano sulle gambe degli uomini e lì c'è un grande sponsor di un Green Deal anti-industriale e di fatto anti-occidentale per mantenere un tridunion con il discorso che facevamo poco fa sulle politiche di difesa e ha un nome e un cognome ed è il suo, con tutto il rispetto, però dal mio punto di vista siccome in politica ci sono gli avversari politici, non sono nemici, lui è un avversario politico che non fa, non ha paura di documentare le sue posizioni che mi permetto appunto di definire con un eufemismo anti-industriale e abbiamo un modello di sviluppo molto solido con grandi performance in termini di sostenibilità ambientale, non abbiamo bisogno dei target della Commissione Europea per conoscere che cosa significa sostenere un forte sviluppo e quindi sostenere il benessere dei cittadini, benessere che va dalla possibilità di avere un lavoro, dalla possibilità di avere un welfare molto molto solido ed evoluto e avere una propensione innovativa mai mai sopita che tutte caratteristiche che ha l'Europa che sviluppando e sviluppando le quali è diventata senza bisogno di imposizioni dall'alto comunque il continente che produce meno del 9% dell'anidride carbonica che è prodotta nel mondo, quindi ok, accettiamo la sfida del Fit for 55, del Green Deal e quant'altro, ma a condizione che non sia contraddittoria, cioè che non divori i propri presupposti. Un esempio su tutti, entro il 2035 il Green Deal europeo impone di ridurre del 100% le emissioni di CO2 da automobili o comunque da mezzi di trasporto su strada. Questo significa che tutti i soldi che l'Unione Europea ha speso fino ad oggi per finanziare la ricerca sui carburanti alternativi che consentono al motore a combustione di non inquinare verranno buttati perché l'emissione la riduzione del 100% della CO2 significa che al 2035 tu devi avere solo macchine elettriche che è una contraddizione in termini perché contraddice il principio della neutralità tecnologica ma soprattutto ti costringerà a riaccendere le centrali a carbone perché non ti basta l'energia elettrica che produci con le fonti rinnovabili o ti costringerà ad esempio ad avere centrali nucleari molto di più di quanto tu non ne abbia oggi insomma ci sono delle contraddizioni che vanno sanate con l'intelligenza e quel buon senso con l'intelligenza e quel buon senso che noi abbiamo dimostrato di avere come italiani ad esempio ecco le chiedo proprio a partire da questo tema così piano piano transitiamo verso la parte più strettamente politica della nostra chiacchierata lei ha con grande trasparenza fatto un nome un cognome del titolare di una linea politica che non la convince le domando rispetto allo schema attuale di sostegno alla commissione europea trasversale di gruppi politici molto diversi fra loro c'è un momento secondo lei in questa legislatura europea in cui si potrà passare a una dinamica classica centrodestra contro centrosinistra in fondo nella scorsa legislatura pur in una situazione politicamente complicata quando si trattò di rinnovare la presidenza del Parlamento europeo e di eleggere Antonio Tagliani si creò una situazione esattamente di questo tipo sarebbe interessante lavorare proprio sulla recupero di quel tentativo che giustamente lei ricorda perché quello che sta accadendo in Europa lo richiede sempre di più le elezioni tedesche sono solamente l'ultimo dei segnali che al mio partito sono arrivati affinché venga fatta con intelligenza una autocritica costruttiva noi abbiamo il presidente della commissione europea Ursula von der Leyen che diciamo con luce e ombre ma il mio modo di vedere dico luce e ombre perché lo dicono anche i suoi colleghi tipi e tedeschi luce e ombre sta guidando la commissione europea però in consiglio dove diciamo il co-legislatore con i muscoli perché l'altro con pochi muscoli è il Parlamento europeo i presidenti PPE sono sempre di meno e sono sempre di più presidenti di paesi non diciamo protagonisti oggi Germania avremo con la probabilità Germania Francia già adesso Italia con Draghi nessuno dei grandi paesi delle grandi economie avrà una guida PPE allora io che sono ovviamente convinto dell'importanza del PPE dico che il PPE se vuole ritornare ad essere decisamente protagonista dei processi che caratterizzano la vita delle istituzioni europee deve fare una scelta di campo non può rimanere in mezzo al guado in mezzo al guado si perdono consensi e si perde potere e la sua suggestione mi pare interessante un centrodestra cosiddetto europeo richiederebbe un tavolo più serio con le forze di centrodestra che sono lì a chiederlo abbiamo dovuto vedere molto chiaro e allora sulla base sulla base di questa direzione di marcia centrodestra versus centrosinistra transitiamo definitivamente verso l'Italia con tre domande politiche conclusive siamo pur sempre a 48 ore da un voto amministrativo che avrà inutile girarci intorno una valenza politica le chiedo con la sincerità che le è propria e in questo quarto d'ora di conversazione lei ha detto cose coraggiose rispetto anche al suo schieramento come si spiega l'enigma di uno schieramento di centrodestra italiano che secondo i sondaggi nazionali avrebbe se si trattasse di un voto politico quasi una decina di punti di vantaggio e poi invece però arriva a un voto amministrativo diciamolo francamente in clamoroso affanno in tutte le città principali non si fa l'analisi del voto il venerdì l'analisi del voto si fa il lunedì e il martedì quindi è naturale non le chiedo questo però le dico come mai si è arrivati così in affanno l'affanno è determinato dalla ritrosia a mio modo di vedere per certi versi legittima ma scorretta politicamente scorretta la ritrosia dei partiti di centrodestra a lavorare da partiti cioè a comportarsi come si deve comportare un partito che vuole conquistare costruttivamente il potere a tutti i livelli in cui si articola la dorsale istituzionale del nostro paese non basta vincere nei talk show anche meritatamente non basta vincere sulla partita generale nazionale bisogna fare la sacrosanta fatica di organizzarsi per essere presenti da piccolo al grande non si può essere forti avere il leader forte e non preoccuparsi di accompagnare il tentativo faticoso politico che anche l'ultimo dei consiglieri comunali fa quotidianamente e gratuitamente questo è un errore che i partiti di centrodestra stanno facendo molto convinti delle loro posizioni e io peraltro condivido quelle posizioni quindi sono consentaneo dal punto di vista culturale con le battaglie che stiamo facendo ma c'è una fatica in più da fare fidarsi degli amici dei colleghi dei militanti che fanno quotidianamente la fatica senza gloria di lavorare sui territori e consentire attraverso la classica attività di partito quindi momenti di discussione locale lavoro quelle che erano le sezioni quindi coordinamenti democratici trasparenti dal basso dove si vota chi deve condurre le danze a livello comunale a livello provinciale a livello regionale poi a livello nazionale e in quel modo la classe dirigente la costruisci la costruisci per avere un buon candidato a Milano come la costruisci per avere un buon candidato presidente del consiglio finché non si fa questa fatica la sinistra radicata organizzata alla fine governa i processi e questo gli italiani non lo meritano portiamoci avanti col lavoro lo schema dei vostri avversari mi pare chiaro martedì diranno ah il centro-sinistra alla fine ha avuto risultati migliori diranno più o meno suffragati diciamo dai risultati che vedremo il centro-destra è diviso perché due forze sostengono il governo una no e anche questo è oggettivamente vero ciascuno con le sue buone ragioni di sostegno o di opposizione al governo magari un ritocchino alla legge elettorale creare una situazione per cui nel 23 non ci sia uno schieramento vincitore e si torni di nuovo ad una situazione ibrida c'è il rischio che il centro-destra si faccia disarticolare con questi giochi o no? Non credo non credo non respiro questo clima né nel mio partito che è Forza Italia né nel lavoro con i colleghi amici di Lega e Fratelli d'Italia abbiamo fatto degli errori abbiamo fatto degli errori è presto per dire quale sarà l'esito delle elezioni io confido che ai ballottaggi si si possa ottenere un risultato buono con la fatica che è necessario fare facendo campagna elettorale fino all'ultimo minuto dubito dubito che questo sia sufficiente per disarticolare un centro-destra pronto a governare il paese pronto a governarlo bene con un programma serio e costruito con fatica in tanti anni sia di opposizione che di governo è utile avere la cultura diciamo sia dell'opposizione che del governo è utile non essere troppo innamorati del potere per poter esercitare e governare con intelligenza quindi io sono convinto che non ci siano le condizioni per mandare a farsi benedire tutta la fatica di questi anni e lo dimostra la qualità del governo che noi esprimiamo nelle regioni che trainano il paese dal punto di vista economico sono lì a dimostrare chi siamo noi siamo quella roba lì cioè gente che sa governare detta molto in parole povere non confidiamo nei miracoli eterni di un presidente che io stimo molto come Mario Draghi perché non si chiede alla politica di fare miracoli come alcuni sembrano voler chiedere all'attuale presidente del consiglio sappiamo che abbiamo una responsabilità sostenere oggi il suo governo perché faccia bene e domani col voto fare la nostra parte governando noi domanda finale dopo questa bellissima conversazione per cui la ringrazio le faccio io la meno appassionante di tutte delle domande però è doverosa domanda tutta di politics e tra le forze di centrodestra che sostengono il governo lei è autorevole esponente di Forza Italia poi c'è la Lega con le vostre naturali differenze lei si attende dopo il voto amministrativo al di là delle denominazioni federazione coordinamento lei si attende un qualche passo di ragionamento comune di coordinamento in forme più forti o più tenui con tempi più stretti o più dilatati lei si attende qualcosa post amministrativo o no? Sì me lo attendo e me lo auguro mi auguro che l'attuale struttura diciamo delle forze politiche del centrodestra vada verso una modifica sostanziale e poi formale prima sostanziale e poi formale formalizzata non mi accontento delle attuali divisioni che generano capricci che a me onestamente danno molto fastidio nel rapporto tra le tre forze politiche principali del centrodestra auspico che qualcuno inizi se devono iniziare Lega e Forza Italia che iniziassero a dimostrare che c'è la possibilità di fare un lavoro moderno un lavoro non sul piccolo ma sul grande e confortassero quindi i nostri elettori che abbiamo voglia di lavorare insieme per governare il paese non perdendo tempo con i post sui social network in cui facciamo le piccole vendette quotidiane che non interessano a nessuno che si governasse tutti insieme che solo si facesse uniti e se è necessario modificare il brand e fare un nuovo brand più moderno che parli ai cittadini di centrodestra in maniera non più divisiva ma finalmente unita e audace ecco io sono pronto Grazie di cuore all'onorevole Massimiliano Salini potete condividere non condividere ma è stato coraggioso sui temi di politica internazionale sui temi di politica interna a maggior ragione rispetto al proprio schieramento e al proprio partito sono opinioni forti ed è stato un piacere ascoltarle qui a View from Italy The Watcher Post noi ci rivediamo venerdì prossimo alla stessa ora a metà mattina in questi studi grazie all'onorevole Salini grazie a chi ci ha seguito Sì a chi ci ha seguito